Guidare senza casco è ancora oggi una delle principali cause di incidenti, sebbene dal 99 sia in vigore una legge che ne obbliga l'utilizzo. Per sensibilizzare i più giovani al rispetto delle regole di sicurezza stradale, l'Ufficio regionale del Garante dell'Infanzia ha promosso il progetto Senza Casco hai le ore contate. Una campagna di educazione alla legalità realizzata in collaborazione con l'assessorato alle politiche giovanili del comune e la polizia municipale dei cinque capoluoghi di provincia. C'è una sanzione amministrativa, oltre alla sanzione amministrativa c'è il firmo amministrativo del veicolo per 60 giorni. Ma al di là di questo è la propria vita che va tutelata. Non dimentichiamo che i ciclomotori sono tra quelli i soggetti più deboli anche sulla strada. Il messaggio del progetto, racchiuso in orologi colorati, è rivolto ai giovani neopatentati, con l'obiettivo di promuovere la cultura del casco ancora poco diffusa in alcuni quartieri della città. L'invito dunque ad essere prudenti alla guida per tutelare la propria vita e quella degli altri. Un messaggio importante in questa città dove ancora purtroppo si registrano nei nostri pronto soccorsi degli ospedali cittadini troppi incidenti e anche diverse morti per incidenti di ciclomotori. Speriamo che sia da stimolo ai nostri neopatentati per un uso consapevole del casco.